e siamo arrivati alla fine di gennaio e mercoledì 31 sono le 7 del mattino questa è l'edicola buongiorno edicola che si apre anche oggi con la vicenda di Ilaria Salis e già ieri avevamo visto molti quotidiani avevano scelto come titolo di apertura proprio la storia di questa docente maesta di 39 anni detenuta in Ungheria oggi ci ritornano in tanti perché ci sono stati una serie di diciamo così avvenimenti fra la cronaca e la politica ieri che hanno determinato diciamo così una rilevanza di questa notizia prima di tutte la telefonata che in serata la presidente del consiglio meloni ha fatto al premier orban che diciamo così fra l'altro da modo ad alcuni quotidiani segnatamente per esempio libero e forse diciamo quello che più insiste su questo aspetto nel dire che tutta questa vicenda viene strumentalizzata dalle opposizioni che tutto sommato ormai meloni ha risolto chiamando orban e insomma è solo fuffa della sinistra vedremo se è davvero così intanto vi voglio far vedere un po di titoli di apertura spicca come sempre il manifesto che ha un titolista d'eccezione anzi e si distingue diciamo così nei giochi di parole a volte molto raffinati a volte magari meno ma insomma sempre efficaci angheria sicuramente non è male una prigione non è un albergo a cinque stelle l'ungheria risponde con arroganza scrive il manifesto allo scandalo per le immagini di laria salis condotta in catena in tribunale a budapest meloni chiama orban ma il governo italiano non compie passi per l'estradizione e la destra assolve i carcerieri così scrive il manifesto vi faccio vedere anche un altro quotidiano questo è il riformista che invece preferisce mettere appunto la fotografia di meloni accanto a orban al guinzaglio di orban dando qui una caratterizzazione diciamo così di meloni che sarebbe succube di orban più che succube forse appunto magari indifferente o non vuole dare fastidio all'amico alleato è la tesi che sposa domani non vedo non sento non parlo il caso salis manda in tilt in governo perché perché c'è l'imbarazzo di taiani ministro degli esteri che alla fine viene appunto mandato a rispondere ai cronisti di quello che sta accadendo la gaf di lollo brigida ministro dell'agricoltura che dice di non aver né visto le immagini né sentito nulla e appare abbastanza bizzarro e quantomeno comunque insolito che un ministro che si occupa comunque di un dicastero importante come quello dell'agricoltura non sappia nulla di ciò che accade nel suo paese non veda nulla gli si consiglia di vedere e seguire magari una buona rassegna stampa come questa detto questo non il caso salis appunto sostiene il domani manda il tilt il governo e poi ci ricorda come al tempo dei due marò meloni definì quello di renzi un governo di eunuchi incapace di riportarli in italia con salis invece è rimasta in silenzio per un anno solo ieri sera ha chiamato l'amico fra virgolette orban per ammorbidirlo così ci ricorda per l'appunto il domani che ci dice che fra l'altro domani meloni vedrà a bruxelles proprio orban perché c'è il consiglio europeo altro titolo interessante ecco questo qua di libero vi volevo far ve lo volevo far vedere perché invece capovolge diciamo così un po questa questa lettura ed è il pd che invade l'ungheria il caso orban penultima spiaggia perché penultima perché e poi ce lo spiega nel suo editoriale daniele capezzone un fuoco al giorno per fare chiasso insomma quindi sarebbe solo appunto la penultima puntata di una serie di questioni che vengono sollevate ma che poi tutto sommato hanno poco fondamento e quindi la meloni spiazza tutti chiama budapest e per l'appunto sostiene daniele capezzone alla fine l'editoriale è lungo ma il senso diciamo così delle sue parole è questo anche se capezzone prende bene le distanze dal fatto che salis non debba stare in manette con gli schiavettoni eccetera eccetera quindi ci mancherebbe ne rispetta diciamo così l'integrità e l'identità però dice il metodo della sinistra va smascherato e denunciato per quello che è una prova di impotenza e sfascismo appunto da parte della sinistra non hanno un programma in positivo non hanno un ubico un system politico non hanno nemmeno un'alleanza definita e qui diciamo così affonda il coltello nel burro capezzone l'unica cosa di cui dispongono è un'attitudine a metà tra lo sfascia carrozze e un'assemblea studentesca non è una strategia è disperazione politica insomma questo sollevare diciamo così un caso al giorno ora non è esattamente un caso al giorno quello di salis anche perché peraltro questa donna è da un anno che viene detenuta comunque lo cavalca sicuramente un quotidiano come repubblica che sceglie questa titolazione prigionieri di orban a destra silenzio imbarazzi sulla detenuta italiana budapeste mentre meloni telefona al premier ungherese mesi ecco giustamente lo fa rilevare repubblica di denunce in ascoltate io tenuta al guinzaglio parte la trattativa per ottenere gli arresti domiciliari e il rimpatrio e andiamo appunto subito ad aprire il quotidiano che nella primissima foliazione di questo ci parla con questo racconto appunto di un anno di denunce io trattata da animale il governo dopo l'inerzia per fortuna appunto ora punta ai domiciliari e ci viene detto dai due colleghi foschini e tonacci che l'insegnante cioè salis aveva scritto lettere sulle sue condizioni perché non era solo appunto questo metodo di incarcerazione ma è anche la prigione nella quale è stata tenuta sicuramente terribile e meloni dice repubblica esclude però lo scontro con l'alleato ungherese le mosse studiate con la difesa intanto si parla anche diciamo così del ruolo quantomeno non particolarmente attivo ecco se vogliamo usare un eufemismo dell'ambasciatore a budapest ritardi e sottovalutazioni nel mirino finisce appunto l'ambasciatore il caso lasciato nelle mani dei funzionari e racconta repubblica che la farnesina si sarebbe addirittura irritata appunto con questo diplomatico iaco angeli per aver evidentemente lavorato poco per la l'incolumità o almeno la dignità della nostra connazionale sempre su repubblica vi faccio vedere ecco qua anche pagina 3 viene raccolta la denuncia del padre di laria salis che dice per l'appunto l'ambasciata sapeva del guinzaglio perché fra l'altro non è la prima volta mia figlia torturata per farla confessare finora qui a budapest nessuno mi aveva ricevuto insomma sicuramente una vicenda dai contorni poco chiari su questo vi voglio far vedere però anche come al di là di libero che abbiamo notato insomma essere ribaltare diciamo così la questione c'è anche chi ed è il giornale per esempio ha una posizione più equilibrata se ne incarica augusto minzolini di scriverne e parla del garantismo senza colore sanzionare chi viola i diritti scrive minzolini che dunque diciamo così pur essendo consapevole e nella giornale se ne parla chiaramente che questa può essere e diventare una questione politica però dice le immagini di laria umiliata dal tribunale di budapest sono analoghe a quelle di teran mosca o pechino l'europa farebbe bene a sanzionare chi viola i diritti insomma parole assolutamente molto chiare che vengono fra l'altro sottolineate e assumono diciamo un valore ancora più importante quando si legge sempre a pagina 2 del giornale che ci sono pressioni bipartisan evidentemente no per riportare a casa e l'aria ma il carroccio si smarca perché diventa un caso anche le parole del rappresentante della lega che dice se fosse colpevole la maestra deve essere irradiata non solo ma avevano anche detto quelli della lega che avrebbe insomma che ogni paese aveva diritto di esercitare la la propria giustizia come voleva e invece no non è così perché c'è un'europa diciamo così che che ce lo impedisce ce lo ricorda bene luigi manconi sulla prima pagina di repubblica parla della legalità perduta a questo proposito e dice se questa ostensione del corpo di salis e dei suoi polsi delle sue caviglie non fosse l'involontaria documentazione di un dispotismo di regime bensì un vero e proprio messaggio inviato all'europa e all'italia in altre parole l'autocrazia ungherese sembra voler comunicare questo è il nostro sistema penale lo stato delle nostre carceri il trattamento riservato agli accusati è questa l'amministrazione della giustizia il codice di procedura penale cui non vogliamo in alcun modo rinunciare e di cui dovete farvi una ragione è difficile spiegarsi altrimenti la persecuzione alla quale da 11 mesi è sottoposta la nostra connazionale però poi appunto prosegue ancora manconi nel dirci che in realtà non è non è assolutamente non è assolutamente possibile e ricupera diciamo così e rimbrotta anche il ministro tagliani che aveva detto la magistratura ungherese indipendente dicendo qualcuno gli corra dietro e gli ricordi che il parlamento europeo la commissione europea la corte europea dei diritti umani la pensano esattamente al contrario sono le 7 e 11 per chiudere diciamo così questo capitolo vi voglio ancora segnalare quello che scrive però mattia feltri sulla stampa perché ahimè noi non possiamo certo fare la morale agli altri schifezze nostre così si intitola il pezzo che mattia feltri dedica a questa vicenda e così scrive per mia grande sfortuna o imperizia non riesco a trovare una classifica più aggiornata l'ultima risale al 2018 con l'italia dietro soltanto alla turchia per numero totale di condanne ricevute dalla corte europea dei diritti dell'uomo 2383 dal 1959 anno di fondazione della corte comunque una posizione di tutto rispetto è evidente il sarcasmo poiché al terzo posto con un centinaio abbondante di condanne in meno c'era la russia una delle più pregiate fucine mondiali in fatto di violazione dei diritti umani ancora nel 2022 tenevamo botta eravamo quinti per numero di ricorsi pendenti dietro a turchia russia ucraina e romania in una graduatoria però non abbiamo rivali nel 2020 eravamo il paese col maggior numero di sentenze della cedu non rispettate oltre 2200 con russia e turchia a seguire e per l'appunto poi fa una serie di esempi dice nei mesi scorsi siamo stati condannati per detenzione illegale di una minorenne ganese vittima di violenza sessuale e privata del necessario supporto psicologico per aver tenuto in carcere malati psichiatrici che necessitavano di ricovere cure specifiche per aver arrestato denudato e maltrattato quattro sudanesi capite da voi da quale dorato pulpito a proposito della sventurata e l'aria salis possiamo chiamare schifezze le schifezze dell'ungheria però in questo caso mal comune non è mezzo gaudio cerchiamo di rimediare tutti andiamo andiamo in pubblicità e poi andiamo a vedere il resto 7 e 17 riprendiamo la nostra edicola archiviato il caso salis resta un interrogativo come affeceva il ministro lo brigida a non aver visto neanche un'immagine della donna in manette forse perché ho pensato io maliziosamente questa mattina era impegnato nella risoluzione delle proteste degli agricoltori il domani ci dice gli agricoltori tradiscono lollo salvini soffia sui forconi anti fratelli d'italia e quindi si aveva dei grattacapi nuove manifestazioni dei coltivatori che contestano il governo l'europa e le grandi associazioni di categoria attenzione uno dei capi della protesta ci spiega il domani è danilo calvani nel 2013 era leader dei forconi movimento vicino a forza nuova e poi ci spiega lisa di giuseppe che scrive l'articolo che ho fatto una cosa che francesco il mio braccio non vuole che io faccia scusate ho mosso il giornale chiedo scusa a francesco il capo delle proteste spiega lisa di giuseppe e danilo calvani un piccolo imprenditore di latina che nel 2009 fu prima fra i fondatori della lega nel lazio poi creatore di un'associazione coordinamento 9 dicembre che fu una delle sigle che parteciparono al movimento dei forconi al tempo del governo monti una galassia variopinta di protestatari che fu guidata anche da espodenti radicali ed estremisti di forza nuova la parabola di calvani cominciò a scendere quando a fine 2013 si scoprì che andava da una manifestazione all'altra con la jaguar sottofermo amministrativo di tal walter amico camionista dopo dieci anni di silenzio calvani sta provando a rifarsi l'immagine di rivoluzionario nemico del governo dell'unione europea che spinge per tagliare gli sconti sul gasolio di cui l'italia beneficia la categoria e naturalmente delle sigle più rappresentative che con l'esecutivo meloni hanno ottimi rapporti col diretti non fa i nostri interessi questo dice questo signore quindi insomma voi capite che la questione si fa un po complicata e a proposito repubblica che già ne aveva scritto anche nei giorni scorsi infatti torna eccola qua su questo tema e ci racconta appunto di blocchi e letame la trincea dei trattori che dicono siamo traditi da tutti facciamo addirittura un partito si allarga dunque questa potresta stavolta le porte di milano paralizzano il casello con cimi gasolio costi altissimi andremo fino a roma e anche loro dicono non abbiamo un referente politico per dare poi diciamo così un altro un altro colpo alla politica del governo ecco qua che repubblica diamo proprio un dispiacere questa mattina l'olobrigida ci fa ci mette in pagina pagina 19 attraverso michele bocci un reportage da quello che viene presentato come il primo allevamento italiano autorizzato da appena due giorni a produrre farina di grillo per l'alimentazione umana si trova a macerata e dice lo chef l'allevamento di grilli che sforna farini sa di semi di zucca gli chef la ameranno è questa appunto la prima autorizzata a lavorare questa farina per alimentazione umana e dicono ovviamente quelli che la sostengono che rappresenterà il cibo del futuro oggi parleremo di futuro anche a proposito di elon musk ma prima vi voglio far vedere anche sulla stampa se l'argomento agricoltori vi appassiona un'intervista che trovate a di pietro antonio di pietro che è stato magistrato ma poi sapete si è ritirato a vita privata gli dice io sto con i trattori se dilaga la rabbia gli agricoltori che bloccano parigi sono però tra i più sussidiati d'europa questo almeno sostiene stefano lepri che scrive l'articolo mentre andrea rossi appunto intervista di pietro che evidentemente se sta con i trattori forse potrebbe anche un domani decidere dopo l'avventura di magistrato e dopo quella di italia dei valori riprendere un'avventura politica non lo sappiamo intanto atteniamoci ai fatti e continuiamo a parlare di economia prendiamo il sole 24 ore e scopriamo in po di dettagli sui nostri conti pil italia prima tra i big dell'unione europea dopo il covid quindi buona notizia ma nel 2024 la crescita parte solo da un più 0,1 per cento quindi assolutamente disastrosa grazie però scrive giustamente il sole 24 ore grazie a un colpo di reni di fine anno l'economia italiana archivi al 2023 con una crescita allo 0,7 per cento completata in un quarto trimestre che ha fatto segnare un più 0,2 rispetto all'estate un più 0,5 in termini tendenziali è quanto emerge dai dati diffusi ieri nella stima preliminare dell'istat che però smorza gli entusiasmi sottolineando che il 2024 parte solo con un più uno l'eurozona dal canto suo è ferma e sfiora la recessione crescita zero contro l'atteso più uno del consensus degli analisti questo come vi dicevo lo stato dell'arte sulla stampa di nuovo se ne parla in modo diffuso perché fra l'altro l'apertura il titolo di apertura della stampa oggi è un titolo che ha solo lei si parla del pasticcio bonus mamme bloccati gli sgravi fiscali doveva partire a gennaio ma manca la circolare imps e poi si parla delle pensioni delle nuove pensioni che penalizzano le donne ahimè la cosa non ci stupisce ma ecco qua quello che mi interessava farvi vedere di pagina 2 pagina 3 è questa intervista che viene fatta a marco tronchetti provera vicepresidente del gruppo pirelli che si aspetta sul taglio dei tassi se la bce tagli i tassi o sarà recessione l'unione europea si rafforzi per evitare il declino e come sapete le voci di un taglio dei tassi si sono rafforzate già nei giorni scorsi potrebbero arrivare ben prima di pasqua ma quello che mi interessava leggervi erano due righe sul miracolo spagna perché rispetto alle cifre che abbiamo letto madrid ci dicono i quotidiani è andata in controtendenza ed è cresciuta addirittura del 2 e 5 per cento come ha fatto madrid francesco rodella spiega colpita fortemente dal boom inflazionistico del 2022 madrid ha cercato di evitare una frenata generale della sua ripresa post covid con due ingredienti da un lato un forte scudo sociale a protezione di classi a reddito medio basso in parte sostenuto dai proventi di nuove tasse straordinarie per banche e grandi società dall'altro una soluzione ad hoc per abbassare i costi di gas ed elettricità ottenuta grazie al cosiddetto meccanismo iberico cioè un tetto amministrato al prezzo del gas utilizzato per la generazione dell'elettricità autorizzato dalla commissione europea questa dunque la ricetta del governo spagnolo e a proposito visto che parliamo di economia noi invece sembriamo andare in tutt'altra direzione il fatto quotidiano mette in prima pagina questa notizia ponte di messina mangiatoia libera sugli stipendi e le consulenze la società appunto del ponte di messina verrebbe esentata dai limiti di spesa intanto salvini sostiene sempre il fatto quotidiano vuole mettere le mani sulla milano cortina ma la notizia che viene pompata di più a pagina 3 quindi la prima che si vede è questa super bonus la fine spegne l'edilizia quest'anno è meno 7,4% anche se come sapete i detrattori del super bonus sostengono che avesse decisamente drogato diciamo così il mercato e quindi non sia corretto farne un'analisi a proposito di questioni economiche vi voglio far vedere anche il titolo di apertura del messaggero PNRR la burocrazia sta rallentando le opere è il grido di allarme delle imprese che dicono guardate ci sono in ballo 9 miliardi ma se voi non ci fate lavorare tutto salta quindi cantieri in ritardo 9 miliardi di opere chi invece corre, corre davvero come un treno lo abbiamo visto già nella notizia di ieri è Elon Musk è veramente un po' particolare, straordinaria l'impresa questa della sua azienda Neuralink sempre che ovviamente sia tutto documentato perché ancora una pubblicazione diciamo così scientifica non risulta però prendo da Repubblica ecco qua il racconto di quello che è stato fatto questo primo chip nel cervello Musk apre l'epoca dell'uomo cyborg aiuterà ciechi e traplegici a usare col pensiero pc e smartphone quindi davvero una cosa incredibile le dimensioni di questo chip non sono neanche piccolissime perché è un quarto di dollaro quindi insomma due centimetri e due e poi mi interessava farvi vedere questa intervista a Luca Berdondini che è uno scienziato dell'istituto di tecnologia italiana di Genova che dice in Italia siamo più avanti ma il tycoon ha tanti soldi e norme che lo aiutano ahimè è il leitmotiv del nostro paese dice Luca Berdondini quando gli viene chiesto da Luca Fraioli a che cosa servono questi dispositivi e chi ne beneficerà che dice le persone quadriplegiche o affette da sclerosi multipla o sclerosi laterale amiotrofica comunque tutti coloro che hanno disfunzioni del sistema motorio questa tecnologia permette di elaborare algoritmi che decodificano le intenzioni di movimento e dice una volta che questi segnali saranno decodificati si possono trasformare per l'appunto in azioni permettendo per esempio di controllare sistemi robotici che possono dare supporto alle persone con disfunzioni motorie ovviamente tutta questa cosa allarma non tanto gli scienziati quanto i filosofi, coloro che si occupano di etica e quindi ci sono diverse riflessioni per esempio per Luigi Pisa dice la corsa ai poteri paranormali dobbiamo arrivare prima dell'intelligenza artificiale su diversi giornali ne trovate Libero affida a Francesco Specchia diciamo così una serie di considerazioni e di suggestioni letterarie anche queste importanti perché comunque il nostro immaginario è fatto anche di questo e allora ecco qua il racconto che ne fa specchia di quelle che erano le prime suggestioni di Elon Musk uomo e macchina fusi insieme la distopia letteraria si è avverata dalle prime suggestioni di Michael Crichton al romanzo predittivo di William Gibson se però invece più che le suggestioni letterarie vogliamo andare a vedere qual è il futuro beh una parte ce lo racconta ancora una volta domani che ci spiega che anche in Cina e chissà mai se l'avremmo immaginato c'è un problema di calo demografico la Cina è senza forza lavoro e quindi sta investendo in questo momento per sostituire i lavoratori con gli umanoidi in modo da rimediare diciamo così i propri problemi l'ultima prima pagina che vi voglio far vedere è quella di QN quindi giorno resto del Carlino in azione perché mi ha colpito la notizia che loro riportano in prima pagina pensando appunto ai robot noi invece siamo fortemente umani e come tutti gli umani anche un po' imbecilli e talvolta dopo Flexi Man arriva dunque anche Dossi Man i sabotatori che tirano giù anche i dossi Dossi Man eccolo infatti che smontano i dossi artificiali non possiamo che allargare le braccia da Manuela vedo Manuela che annuisce buongiorno Manuela forse anche sì vedo anche Paolo che annuisce nello studio siamo in tanti ti lascio la linea buongiorno grazie buongiorno Flavia buongiorno ai nostri telespettatori allora con il nostro telegiornale andremo subito in Medio Oriente perché proprio in queste ore sia Mas che Israele stanno valutando quella bozza di tregua rispetto alla quale appunto dovrà arrivare una risposta naturalmente con posizioni differenti e con il governo israeliano che si spacca su queste ipotesi in Italia in primo piano c'è il caso di Ilaria Salis la detenuta italiana a Budapest da un anno che è stata portata in aula lo abbiamo visto nelle immagini in catene ieri sera su pressione delle opposizioni Giorgia Meloni ha telefonato a Urbani e ha parlato di questo caso mentre il governo punta agli arresti domiciliari a riportarla in Italia la questione dei trattori sempre in primo piano domani c'è questo vertice a Bruxelles naturalmente gli agricoltori fanno pressione potrebbe esserci anche un incontro tra i ministri competenti dell'agricoltura nel weekend poi oggi i funerali di Sandra Milo alle 12 nella chiesa degli artisti a Piazza del Popolo a Roma tutto questo e altre notizie tra poco nel telegiornale prima però Paolo Sottocorona con il meteo buongiorno Paolo grazie Emanuela buongiorno sì cioè questa escalation prima gli autovelox poi i dossi aspettiamo i semafori le strisce bianche tanto quelle continue non le rispetta nessuno già quindi non devono neanche levarle che non vengano rispettate ve lo posso assicurare provato sulla mia pelle allora a me sembra un delirio comunque sicuramente c'è di peggio la situazione il passaggio di qualche nuvola quelle che potrebbero mantenere in qualche caso le minime un pochino più alte funzionano poco perché anche questa mattina al nord sicuramente al centro meno al sud le minime per effetto del cielo sereno sono molto basse il tempo capita così insomma non può succedere molto vediamo la previsione per oggi perché queste nuvole che passano eccole qua vedete sono nuvole e basta neanche quelle debolissime piovigini di cui ogni tanto abbiamo visto traccia cielo sereno ma la nebbia insiste sulle pianure del nord quindi temperature molto basse parleremo oggi della nebbia nel nostro piccolo incontro nella nostra pillola e vediamo la giornata di domani ricompaiono queste ipotetiche piovigini deboli quindi insomma poco o nulla vedete che al nord rimane sereno il cielo si copre un poco al centro sud questo potrebbe appunto mantenere un pochino più alte le minime arriviamo alla giornata di venerdì in cui di nuovo sereno poco nuvoloso ovunque se vogliamo trascurare queste appunto debolissime macchie verdi di debolissime piovigini che potrebbero interessare le isole maggiori le minime di questa mattina sono quelle calcolate su una situazione diciamo teorica che ci lascerebbe almeno intorno ai 4 gradi in realtà sia al nord che al centro invece spesso siamo ancora al di sotto sempre appunto per colpa del cielo sereno e poi lo stato dei mari tranquillo perché di vento in effetti ce n'è molto poco soltanto lo ionio ancora anche molto mosso solo a largo se no localmente mosso poi questo colore celeste ci garantisce che i mari non è aria di fare il bagno ovviamente però sono assolutamente tranquilli se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuele Agarulli a più tardi